Allora, stavamo discutendo l'importanza di rispettare tutte queste procedure che non è semplice, assolutamente, perché se passano i 90 giorni e qui vediamo la slide successiva domanda di riconoscimento di invalidità, non si può più presentare la domanda, bisogna cominciare da capo, come funziona? Esattamente, bisogna chiedere un nuovo certificato perché questo non è scaduto. Allora, il medico l'ha mandato, però il cittadino deve fare la sua parte. Esattamente. Cioè cosa deve fare? Deve rivolgersi a un patronato o, come dicevo prima, se è in possesso degli accessi per entrare nel proprio cassetto, però sponsorizziamo l'attività del patronato perché poi dà anche tutta una serie di assistenza che va al di là della presentazione della domanda. E appunto l'invio poi della domanda alla quale devono essere inserite tutta una serie di dati che poi sono determinanti a riconoscimento o meno della prestazione, nel senso che si conclude l'iter senza dover poi riprendere in mano nel caso in cui la commissione dia esito positivo. Quindi il codice IBAN, i dati anagrafici, i dati reddituali vengono già inseriti in questa domanda a completamento dell'iter. Perciò è necessario fare anche questa fase in modo corretto. Entro 90 giorni dall'emissione del certificato. Un'altra cosa, nel certificato può essere anche chiesta la visita domiciliata nel caso in cui la persona invalida possa avere delle controindicazioni nello spostamento. quindi il medico che redda il certificato lo può già indicare affinché poi la visita possa essere fatta al domicilio e non presso le strutture USLA. E come abbiamo detto appunto attraverso l'attività del patronato viene poi fatto l'invio della visita. Cosa succede dopo? Allora succede che, una volta inviata la domanda, l'USL nei tempi, e purtroppo qui devo dire che sono diventati anche tempi molto molto importanti, nel senso che non c'è una tempestività nel richiamo, nel dare l'appuntamento per l'invito a visita, a parte per le patologie oncologiche per cui vengono rispettate delle tempistiche brevi appunto per la tipologia della patologia, ma per tutte le altre casistiche siamo arrivati anche 6-7 mesi prima della comunicazione alla visita. Arrivati al giorno in cui appunto si va all'appuntamento, bisogna, viene comunicato attraverso una mail, un messaggio telefonico o una lettera, una raccomandata in cui si invita appunto a presentarsi e dove viene anche specificato cosa portare, è necessario che a questo appuntamento si vada preparati con la fotocopia di tutte le certificazioni mediche che è in possesso, il documento di identità, perché poi questi documenti vengono lasciati all'uslo e fa parte poi della propria documentazione sanitaria che rimane anche per eventuali aggravamenti successivi. Una volta fatta la valutazione la commissione provvede a inviare un certificato, un verbale di presatto dell'invalidità dove verrà specificato appunto la tipologia di riconoscimento che poi abbiamo visto può essere parziale, totale e in base appunto al grado di invalidità. C'è tutta una documentazione che deve essere portata tra l'altro, quindi viene schematizzata in modo da che ci si renda conto di cosa documentazione è avere. La documentazione in genere appunto sono il documento di invalidità, la tessera sanitaria, il certificato che è stato rilasciato dal medico di base e poi la documentazione sanitaria, quella che ha permesso al medico di compilare il certificato, quindi ho detto che deve essere il più recente possibile e il più completa possibile che riguardi tutta la sfera sanitaria del paziente. Ma quando voi scrivete nell'ultima parte vanno indicate tutte le patologie e i problemi riguardanti il vivere quotidiano? Difficoltà di ambulazione, incontinenza, difficoltà a lavarsi, vestire, chi lo scrive? Questo è il medico specialista, per questo io suggerivo una visita geriatrica perché la visita geriatrica fa tutte queste valutazioni, una persona giovane in genere fa domanda di invalidità perché si trova in una condizione invalidante dettata da una patologia, un anziano molto spesso non ha una patologia specifica ma una condizione, uno stato di decadimento che appunto va ad investire questa sfera, la sfera cognitiva e la sfera che riguarda lo stato fisico e l'incontinenza, la deambulazione, la difficoltà nel compiere gli atti quotidiani rientrano in questa sfera. Ma uno lo deve fare perché gli viene in mente di farlo? Perché è necessario per la valutazione. Certo, quindi il medico lo dice, guarda di andare dal geriatrio, io penso uno che non ha detto i lavori, che non sia un medico, che non sa neanche che il geriatrio può risolvere. Certo che sì perché il medico altrimenti anche se conosce il paziente da vent'anni che l'ha in cura da sempre, difficilmente anche lui ha bisogno di un sopporto perché il medico di riatra ha dei parametri di valutazione, il medico di base normalmente non lo fa questo tipo di valutazione a meno che non abbia una specializzazione in materia, però appunto è necessario che sia ben documentata, soprattutto appunto quando non ci sono patologie specifiche ma determinate da un decadimento cognitivo e fisico. È ovvio che poi rientra tutto perché normalmente poi un anziano ha problemi, il diabete, la pressione o anche patologie, poi deve essere tutto documentato in modo dettagliato. È importante, ripeto, che sia il certificato redatto in modo corretto e preciso proprio per evitare che si tralascino delle condizioni che poi sono determinanti perché ad esempio e lo vediamo anche più avanti, il grado di invalidità determina poi anche la possibilità o meno di avere un aiuto economico. E questo è la cosa sostanziale. E questo è determinante. Qui abbiamo la visita che voi schematizzate. Sì, come dicevo prima, la commissione medica che prende in carico la domanda avrà cura poi ad analizzare tutti questi elementi che sono stati forniti dal medico di base attraverso il certificato e attraverso la documentazione che poi il paziente porta alla commissione. Ripeto, deve essere la fotocopia del documento di identità, il codice fiscale e tutta la documentazione fotocopiata perché poi devono trattenerla all'USL altrimenti poi deve lasciare lì l'originale e non ha più documentazione in suo possesso quindi è importante che ci siano le fotocopie e in base a tutti questi elementi viene appunto stabilito qual è la commissione medica dell'USL che lo fa, che fa questa valutazione. Non è il medico di base o altro, è la commissione. Quindi c'è un verbale definitivo della visita che viene approvato dalla commissione medica e viene inviato dall'Inps al richiedente. Esattamente, ci sono più passaggi perché c'è la commissione e la commissione medica superiore dell'USL dell'Inps che poi determina, poi avvalla diciamo quanto stabilito dalla prima commissione. c'è un itera appunto per determinare, perché c'è una fase provvisoria e una fase definitiva. La fase provvisoria è quella della prima commissione che determina un grado di invalidità e quindi viene inviato un verbale provvisorio che poi deve essere avvallato dalla commissione medica superiore appunto una seconda valutazione che al 99,9% conferma quanto stabilito dalla commissione, dalla prima commissione. Quindi è la fase definitiva quella poi del riconoscimento della prestazione o meno. Abbiamo i benefici economici che sono quelli che sostanzialmente per i quali uno va ad avviare tutto l'iter per lo più. Esatto. Abbiamo visto all'inizio con le slide, all'inizio della puntata, dove c'era specificato i vari gradi di invalidità. Nello specifico, sempre nella sfera anziana, però bisogna dare delle indicazioni ben precise. Allora, al compimento del 67esimo anno di età viene fatta una valutazione diversa rispetto a quella che viene fatta dai 18 ai 67, perché le fasce di riconoscimento della prestazione si divide in 0-18 per una valutazione per un'indenità di frequenza che è data ai minorenni in sostanza e da una specifica tipologia di valutazione. Quella dell'età adulta, dai 18 ai 67, dove si determina che lo stato di salute possa condizionare comunque la vita lavorativa e sociale di una persona. Per cui è riconosciuto un grado, un beneficio economico a partire da quella che noi diciamo invalidità parziale, ossia dal 74% al 99%, è però determinata da un limite di reddito. Se ho un reddito che non supera, adesso non dico le cifre corrette, ma intorno ai 5.000 euro più o meno, poi ci sono delle ovviamente cifre ben specifiche che vengono aggiornate di anno in anno, e adesso sto dicendo una cosa un po' generica, comunque intorno ai 5.000 euro, e al di sotto di questo reddito viene riconosciuto un'invalidità che per il 2024 è di 333 euro. Per gli ultra 67 anni invece non viene riconosciuto alcun beneficio economico, né con l'invalidità parziale né con l'invalidità totale, cioè nemmeno se ho il 100%, perché si ritiene che poi nel 67 il decadimento non vada a incidere sulla vita sociale e lavorativa, ma sia determinato da patologie derivanti dall'età, quindi con un altro termine di valutazione. In questo caso agli ultra 67 anni, da un punto di vista economico, viene riconosciuto solo l'accompagnatoria. L'accompagnatoria non è una domanda specifica, perché molto spesso ci dicono quando vengono ai nostri sportelli, ma non avete fatto domanda di invalidità, no, la domanda di invalidità è unica e il grado di valutazione che è diverso, perché c'è il 100% e l'accompagnatoria che è il massimo grado di riconoscimento. Perciò l'invalidità totale al 100% dà diritto sempre all'assegno di 333 euro per il 2024, dai 18 ai 67 anni, se il reddito in questo caso è superiore ai 17, non supera i 17.800 euro, mi sembra, anche qui la cifra non ce l'ho corretta, però poi agli sportelli l'indicazione la danno corretta, ma al 67enne no, al 67enne anche con il 100% questo importo non viene riconosciuto, deve avere l'indenità di accompagnamento. Ma se il 67enne è diventato sordo? Sì, il 67enne è diventato... Non riesce più niente o non riesce più a... No, sono altre tipologie, la sordità del 67enne abbiamo detto che rientra nella sfera dell'invalidità e anche se è sordo totale, però questa sordità non determina una condizione che sia totalmente invalidante e differenza della cecità invece che diventa invalidante e quindi lì la prestazione viene riconosciuta indipendentemente poi anche dall'età, ok? Mentre per la sordità non è così invalidante, per cui loro possono ottenere uno sgravio per l'acquisto degli avversi acquistici, ma non possono magari avere l'indenità di accompagnamento anche se sono completamente sordi, perché poi l'indenità di accompagnamento viene valutata sugli atti quotidiani della vita. Allora, interrompo un attimo che abbiamo una pubblicità, eccolo qua, l'indenità di accompagnamento la vediamo qui, facciamo così, la descriviamo bene dopo la pubblicità questa l'indenità di accompagnamento, quindi aspettate un pochino e poi torniamo insieme. Pochi secondi eh?